Siamo pronti, anche se siamo ancora a Ibiza per qualche giorno, ma siamo pronti a tornare a giocare. Se non mi investono qua in mezzo alla zona pedonale, anzi zona ciclabile, non zona pedonale. Noi ripartiremo dalla Champions League, da Nova Gorica. Saremo io, Max Forti, Nicola Benedetto, forse verrà anche Alessandro Minasi. Comunque siamo già un bel gruppetto, bello numeroso e aspetto a tutti i giocatori perché vi voglio eliminare tutti, tutti.